ciao a tutti amici dell'acquario benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami acquario tendenze energetiche affettive per la seconda parte di luglio 2022 abbiamo due carte la temperanza e l'eremita wow due carte direi con un'energia molto calma la temperanza parla di pazienza parla di anche guarigione per certi versi vista insieme all'eremita sento che qualcuno qui deve affrontare un qualche tipo di percorso mi parlano di riabilitazione l'eremita normalmente è colui che va alla ricerca della propria verità della propria verità interiore e la temperanza è una carta di guarigione quindi qui c'è qualche cosa che va nel profondo di voi stessi temperanza anche una carta che parla di equilibrio è quindi in qualche modo c'è questa capacità di sì di trovare l'equilibrio per la guarigione si parla di un equilibrio tra mente e cuore andiamo a vedere cosa dicono gli angeli del cuore per piacere grazie per gli amici dell'acquario ritirarsi lo vedo molto in linea con l'eremita è tempo di staccarsi dal mondo bene qui vediamo una coppia ok quindi potrebbe essere che in questo momento ci sia la necessità come coppia di prendervi un tempo di prendervi un momento d'eremita una fase di isolamento probabilmente per guarire determinate dinamiche per riportare in equilibrio quello che potrebbe essere la relazione per qualcun altro invece fa riferimento al ritirarsi dalla coppia perché comunque l'eremita esprime un'energia di una persona che è sola andiamo a vedere un attimino nello specifico che cosa vi dicono i tarocchi intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo quindi non risuonerà tutto prendete quello che vi serve e lasciate andare al resto all'universo per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi partiamo con una temperanza quindi il doppia carta della temperanza e una principessa di bastoni allora qui sento che è un wow gli amanti è un momento dove c'è una sorta di equilibrio si sta lavorando su quello che è questa guarigione questa coerenza tra quello che è il cuore quello che la mente la temperanza è raffigurata con un angelo quindi qui si potrebbe anche parlare di quello che è un aiuto di tipo divino per qualcuno c'è comunque un qualche tipo di sostegno che vi fa andare verso quello che è la guarigione verso quello che uno star meglio un maggiore equilibrio di voi stessi ok la temperanza come vi dicevo prima parla anche di pazienza quindi qui si tratta di come vi posso dire di rimanere calmi abbiamo poi la principessa di bastoni e potrebbe essere se non avete nessuno in questo momento potrebbe far riferimento ad una persona che arriverà presto nella vostra vita se non l'avete già incontrata la incontrerete presto e credo che per molte persone potrebbe nascere veramente quello che è la chimica tra voi due abbiamo comunque la carta degli amanti le potenzialità per questo tipo di di amore ci sono tutte probabilmente per quello che qui avete anche la carta del ritirarsi se avete appena conosciuto questa persona è il caso di prendervi un tempo per conoscervi un po meglio per andare un pochettino più più a fondo l'uno dell'altra o dell'altro insomma la carta degli amanti comunque mi parla di quello che è una relazione in armonia ecco gli amanti il diavolo molto bene mi parla di quello che è una relazione in armonia di quello che è un equilibrio lo rivedevamo qui anche con la temperanza ma a quanto pare essendoci il diavolo c'è qualche cosa che condiziona c'è qualche cosa che in qualche modo vincola blocca potrebbe esserci qualche tipo di vizio lo andiamo dopo vedere meglio con i mini tarocchi continuiamo con un 4 di coppe e poi sento che qualcuno ha una sorta di mancanza probabilmente fa riferimento a quello che ci vuole dire il diavolo e poi abbiamo un cavaliere di coppe e un re di bastoni ragazzi quindi arriverà arriverà se qui diciamo la persona che conoscete potrebbe insaurare un qualche tipo di relazione più da un punto di vista intimo fisico o di scherzo magari diciamo è una cosa un po più superficiale verso la fine della lettura con questo cavaliere di coppe c'è quello che è un'offerta c'è quello che è un qualche tipo di solidificazione mi viene da dire un qualche tipo di concretizzazione di quello che era un inizio come vediamo qui all'inizio della lettura io credo che per qualcuno qui potrebbe arrivare un qualche tipo di proposta o di convivenza o di fidanzamento una cosa di questo genere perché comunque si passa da quello che è un fante di bastoni a un re di bastoni ok andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico perché qui potrebbe anche parlare tranquillamente di una relazione che è già esistente che però è un po diciamo viziata in qualche lato c'è bisogno o si sta lavorando comunque per raggiungere quello che è un equilibrio il punto è che ci si focalizza su quello che manca invece di focalizzarsi su quello che sia devo vedere la temperanza per piacere grazie abbiamo un 6 di pentacoli e un 9 di spade qui di nuovo abbiamo un'altra carta di equilibrio con il 6 di pentacoli però io credo che qui ci sia uno studio dell'equilibrio ok nel senso che abbiamo un 6 di scusato un 9 di spade che crea preoccupazioni crea ansia qui c'è qualche cosa legato a una sorta di equilibrio materiale economico finanziario pratico che porta comunque dei pensieri andiamo a vedere il principe di bastoni abbiamo un cavaliere di coppe al contrario il secondo e la carta dell'appeso si come vi dicevo è come se all'inizio del periodo questo tipo di contatto di relazione fosse molto molto equilibrata molto controllata non è la parola giusta però il necessario il giusto come se ci fosse questo tipo di scambio tranquillo paziente ed è una cosa che resta comunque da un punto di vista un po come vi accennavo prima superficiale se vogliamo ma superficiale nel senso che non non si parla o non si comunica a livello profondo qui avendo il cavaliere di coppe al contrario e la carta dell'appeso vi dico che c'è qualche cosa che sta comunque nella camera della riflessione ok l'appeso serve proprio per guardare le cose da un altro punto di vista come se qui qualcuno si rendesse conto che non arriva quello che voi volete andiamo a vedere gli innamorati è come se questa relazione non passasse alla fase successiva abbiamo un re di pentacoli e un tre di coppe sì qui io credo che si vorrebbe ufficializzare qualche cosa questo cambio questo magari anche questo ritiro come dice qui ritirarsi magari per un periodo il far festa soli lo stare insieme festeggiare insomma godersi un po la vita la relazione andiamo a vedere questo diavolo però abbiamo un due di coppe un fante di spade e un 3 di spade qui c'è qualche cosa legato all'insicurezza di uno dei due che fa sì che ci sia una sorta di controllo sull'altro o sulle proprie emozioni io credo che la difficoltà qui sia proprio il compromesso il dire sì ok va bene mi impegno per questa cosa qui per questo progetto qui per impostare le cose in questo modo qui c'è comunque un 3 di spade quindi è un atteggiamento che vizia come vi dicevo prima la relazione che blocca crea comunque una sofferenza e avendo comunque anche il fante di spade c'è una sorta di controllo può essere che qualcuno stia tentando di controllare questo tipo di accordo di legame o che semplicemente condizioni magari non è una cosa che si fa consapevolmente ripeto ci sono molte paure molte scusa molte persone che per paura tendono a controllare ma lo fanno perché loro stesse hanno bisogno di sapere che le cose vanno in un certo modo perché l'ignoto le destabilizza andiamo a vedere quattro di coppe abbiamo un fante di coppe un'imperatrice al contrario è un re di coppe si qui sento proprio che manca l'ufficializzazione manca qualche cosa manca il conoscersi manca questa sorta di crescita della relazione manca l'offerta ragazzi ma arriva avete il cavaliere di coppa andiamo a vedere guardate mago al contrario 3 di pentacoli al contrario 6 di coppe e 8 di bastoni qui qualche tipo di comunicazione di offerta come vi ho detto arriverà è un sogno che si avvera mi verrebbe da dire però fate attenzione perché qui abbiamo un mago al contrario il diavolo e il fante di spade e qui abbiamo la carta delle delle collaborazioni diciamo così che al contrario quindi è come se non ci fosse una reale collaborazione e che con il mago al contrario e il diavolo potrebbe esserci per qualcuno qualche chiaro riferimento a una manipolazione che questa offerta venga fatta per manipolarvi perché voi comunque avete un sogno ed è quello che volete sentirvi dire fondamentalmente voglio andare a vedere quest'ora di bastoni abbiamo una regina di bastoni al contrario è un asso di bastoni al contrario guardate io credo che qui alla fine ci sia una sorta di ritiro da parte di uno di voi cioè nel senso se prima la cosa era ok ci conosciamo può esserci qualche cosa mi piacerebbe ci fosse qualche cosa in più ma questa questo salto non arriva questa offerta non arriva nel momento in cui arriva uno dei due quello che la riceve su comunque la come vi posso dire non che la rifiuti però fa un passo indietro datemi un'altra carta sì già solo fatto di aver ricevuto la proposta vi fa sentire in qualche modo vincitori però c'è qualcuno che veramente farà un passo indietro guardate sento che la cosa per certi versi è molto da un punto di vista platonico è come se fosse un gioco qui uno uno stuzzicarsi un corteggiarsi da lì la speranza che diventi qualcosa di più ma quando arriva c'è qualcosa che non vi torna c'è qualcosa che dite ma sì ok però adesso è per quello che probabilmente c'è un ritirarsi o avete bisogno di prendere spazio a livello di coppia da quello che il mondo esterno ti può farvi un fine settimana per conoscervi più a fondo prima di magari accettare questa offerta che potrebbe essere convivenza non so è come se ci fosse una sorta di tentennamento volete qualcosa arriva questo qualcosa ma quando arriva o non è come ve lo aspettate o non è come ve lo aspettate quindi fate un passo indietro sì perché sento che comunque qualcuno qui la proposta arriva è vero quello che voi vi aspettate arriva che siano delle scuse che sia la proposta di andare a vivere insieme che sia quel viaggio che sia il fidanziamo ci facciamo le cose per bene quello che per voi è o rappresenta questo cavaliere di coppe arriva il punto che secondo me non arriva quello che voi vi aspettavate perché ad un certo punto qui con la regina di bastone al contrario sento che c'è una perdita di potere qualcuno evita di agire nonostante comunque ci sia successo nonostante sia quello che voi volevate andiamo a vedere nello specifico per i single per le persone che sono in una relazione stabile e per le persone poi che hanno una relazione a distanza clandestina o che sono in separazione andiamo a vedere per i single io intanto ci tengo a condividere con voi il fatto che ho iniziato a pubblicare finalmente il corso di tarocchi c'è una playlist dedicata la trovate nel mio canale è un corso base è dato veramente a tutti e vi può servire per integrare meglio le letture collettive e riuscire a creare diciamo la vostra interpretazione personale di quello che succede nel periodo insomma ci ho messo veramente tantissimo a fare questo corso infatti se vedete nei video ancora le maniche lunghe quindi l'ho fatto quest'inverno praticamente spero che possiate apprezzare lo sforzo e un modo carino per poter supportare il canale potrebbe essere appunto quello di iscrivervi di mettere un like, di condividere, di commentare o se volete potete anche fare una donazione con il bottone del super grazie io intanto ringrazio anche tutte le persone che lasciano i commenti e che mi hanno sostenuto fino adesso che si sono iscritte, che hanno condiviso, grazie a tutti allora i singoli hanno un nove di bastoni, un papa al contrario e un sette di pentacoli al contrario sì, avendo questo nove di bastoni capisco questa fase della lettura, no? questa sorta di, ok, aspetta un attimo perché qui le cose, come vi dice il papa al contrario, non sono effettivamente ufficiali magari per qualcuno non è molto che vi state conoscendo e appunto ci si sta conoscendo un po' fuori dal mondo, no? quando non si sa se le cose potrebbero funzionare o no i primi tempi ci si frequenta sempre un po' di nascosto, diciamo così però qui qualcuno non è più disposto a stare nell'ombra ha voglia di portare le cose ad un livello successivo se proprio proprio non aveste nessuno, non conosceste ancora nessuno a parte che potrebbe arrivare presto perché abbiamo questo fante di bastoni però ecco, diciamo che potrebbe essere una persona molto diversa da voi molto diversa proprio a livello di usi e costumi potrebbe anche essere straniera, vi dirò ma state tranquilli che qualcuno arriva andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione 10 di bastoni fante di coppa al contrario 5 di spade e abbiamo un asso di spade al contrario ok qui c'è qualcuno che ha bisogno di chiudere un ciclo ha bisogno di completare qualche cosa abbiamo un fante di coppa e c'era già qui o si sta aspettando un chiarimento o si sta aspettando sì, c'è qualcosa qui con questo diavolo che blocca credo che sia stata tipo una discussione un qualche divergenza di opinione un qualche cosa che magari non si riusciva guardate, è cascata la regina di bastoni un qualche cosa dove non si riusciva a mettersi d'accordo non sento una completa armonia all'interno della relazione però sento che ci state lavorando in qualche modo anche se non è proprio una cosa bilanciata però ci si sta lavorando il punto è che dall'altra parte non c'è quello scatto non c'è quel ok parliamo ti faccio questa proposta di conseguenza anche voi vi sentite un attimino confusi confuse perché non c'è quella chiarezza mentale non c'è quel dialogo che porta al chiarimento c'è qualche cosa qua di viziato ragazzi ok andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione a distanza piuttosto che clandestina o in separazione due di bastoni la carta della peso e il tre di pentacoli ecco qui questa proposta potrebbe essere questo tre di pentacoli che parla di un progetto parla proprio di una casa parla di un ok creiamo qualche cosa cambiamo le nostre realtà ristrutturiamo rivediamo quello che è il nostro vivere insieme no c'è la volontà di guardare il futuro c'è una sorta di progettazione ma per qualche motivo si sta analizzando diciamo che le cose sono un po' rallentate perché si sta analizzando quello che è realmente ed effettivamente si può concretizzare quello che si può fare dove porta insomma la relazione così com'è e dove potrebbe portare la relazione con qualche cambio c'è comunque sempre questo diavolo che pesa fondamentalmente in questo senso in questo diciamo gruppo non lo sento così negativo perché lo vedo un po' rappresentato da questa energia bloccata dell'appeso però fate attenzione ai condizionamenti mentali ok l'appeso in realtà vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista perché è come prendere distanza da quello che è la situazione e di vedere la cosa la situazione la relazione da diversi punti di vista non solo dal vostro magari anche dal punto di vista dell'altra persona ok allora credi nella magia sono cadute altre due carte le recupero questa carta vi dice che tutto è magico anche voi siete magici di credere nella magia la magia qui viene intesa come la natura madre natura che è magica parla di tutto quello che sono le energie sottili che in qualche modo creano magia e della nostra capacità come umani di manifestare di materializzare la nostra realtà e abbiamo amicizia è come se vi esortasse questa carta a rendervi conto di chi vi è veramente amico e di chi no dove sono i vizi qui c'è un suggerimento a analizzare le persone che vi sono state vicine nei momenti duri quindi cercate di scremare le persone che fondamentalmente non vi sono veramente amiche e poi qui abbiamo bambino interiore parla di quello che è un po' il ritrovare la leggerezza il divertimento il coccolare quello che è il bambino interiore fondamentalmente un po' come se vi dicesse cercate di capire dove e con chi aggiungerei io vi divertite cosa vi fa divertire cosa vi rende gioiosi cosa fa esplodere il vostro cuore amici dell'acquario questo è quello che ho per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao